eccoci qui bentornati a tutti seconda lezione di oggi andiamo a trattare un argomento che almeno sulla carta non dovrebbe portare via tantissimo tempo ma che a mio avviso merita una piccola parentesi una piccola considerazione il tema di oggi riguarda la micro sd cosa sono le micro sd immagino già tutti quanti voi sapete cosa sono le micro sd proprio per chi non lo sapesse parte completamente da zero la micro sd è in sostanza una piccolissima scheda che viene fisicamente inserita all'interno del drone e che vi consentirà di registrare foto e video è un argomento questo che spesso viene sottovalutato se non addirittura ignorato vi racconto un piccolo aneddoto quando ho iniziato in questo fantastico mondo avevo il dji mini 1 che poi peraltro è lo stesso drone che vi ho consigliato nella prima lezione avevo installato dentro questo drone una scheda sd non sapevo però quelle che erano le caratteristiche l'unica preoccupazione mia era stata quella di scegliere una scheda sd che fosse quanto più capiente possibile invece questo è un dato che non deve essere considerato solamente ma ci sono tanti altri dati che durante la scelta di una scheda sd devono essere presi in considerazione fatto sta che quando poi sono tornato a casa e sono andato a vedere le registrazioni video tutte queste registrazioni le ho dovute completamente buttare perché erano tutte registrazioni video scattose questo perché ho imparato la prima lezione facendo quindi così subito il primo errore non tutte le micro sd vanno bene per i nostri droni quindi alla luce del mio errore il mio consiglio è quello di optare anzitutto per una possibilmente micro sd di marca è vero costerà un pochettino però ne farà assolutamente la pena una micro sd questa della sandisk extreme pro ripeto nuovamente adatta e che non mi ha mai deluso è una scheda davvero veloce sia nella scrittura che nella lettura ed è un aspetto di estrema importanza quando andiamo utilizzare i nostri droni quindi come vi avevo detto nel mio racconto e avrei dovuto ovviamente non sapevo ancora di questa cosa prendere anche in considerazione quella che erano i dati di scrittura della lettura di una micro sd perché attraverso queste caratteristiche si evitano alcuni possibili effetti collaterali che si potrebbero vedere durante le riproduzioni multimediali nei nostri files specie se si tratta di video come è successo a me quindi se non si possiede una micro sd abbastanza veloce in scrittura cosa succede che si rischia di andare a perdere per strada alcuni frame durante la registrazione quindi questa è una delle motivazioni che come vi ho detto poco fa vanno a creare quei famosi scatti durante una registrazione video consigli di acquistare una scheda sd abbastanza capiente adesso andiamo a vedere quale vi consiglio ho già aperto la tab eccola qui la sandisk extreme pro ovviamente questa è una taglia 32 però il consiglio che vi do è di prenderla almeno da 64 gb costa un pochettino di più ma almeno state tranquilli o proprio se proprio volete esagerare potete anche andare con la 128 gb anche questa costa di più ma avete una una capienza abbastanza notevole quindi per registrare un video in 4k un altro elemento che vi posso dare ad esempio nei droni che vi ho consigliato c'è anche il mini 3 pro che registra in 4k è necessaria in questo caso una scheda sd con una velocità di scrittura minimo fino a 30 mb al secondo ve l'ha detto proprio così però almeno così ci capiamo è una scheda che viene indicata anche come u3 infatti se voi vedete qui nello schermo la sandisk extreme pro viene indicata qui u3 vedete questo simbolo qua u3 ok quindi maggiore è la velocità di scrittura meglio è in sostanza e al contrario qualsiasi cosa che è inferiore a questo valore appena indicato u3 come le schede sd non sono adatte almeno che voi non dobbiate registrare i video con una risoluzione più bassa quindi questo è fondamentalmente il concetto e l'analisi che bisogna fare durante la scelta di una scheda sd bene seconda lezione è finita spero di essere stato abbastanza rapido ed indolore e ci vediamo alla prossima lezione ciao